Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video esperimento che abbiamo deciso di titolare un luogo da circo. Oggi il nostro scopo sarà quello di andare a capire e dimostrare il funzionamento della pressione. Ma che cos'è la pressione? La pressione è una grandezza fisica definita come il rapporto fra l'intensità di una forza premente su una superficie e l'area della superficie di contatto. Nel sistema internazionale l'unità di misura della pressione è il Pascal. Bene, ora dopo aver spiegato che cos'è il concetto di pressione andiamo nel lavoro a troppo. Per questo esperimento avremo bisogno di un uovo sodo, una bottiglia di vetro e dei fiammiferi. Il processo è semplicissimo, bisogna accendere un fiammifero e posizionarlo all'interno della bottiglia che va poi tappata usando l'uovo. Eccoci arrivati nella conclusione di questo video, dove cercheremo di rispondere a due domande. Perché l'uovo entra nella bottiglia e a che cosa serve il fiammifero? Possiamo certamente dedurre che il fiammifero bruciando consuma ossigeno, creando una differenza di pressione tra l'interno e l'esterno della bottiglia. Questa pressione permette all'uovo di entrare all'interno. Infatti, quando la bottiglia viene appunto tappata dall'uovo, la pressione interna diminuisce, permettendo così all'uovo di entrare. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Nel caso in cui voi avreste delle domande, scrivetele pure sotto nei commenti. Ciao!